Buonasera dalla redazione di Roma delle News e bentrovati all'appuntamento con l'informazione della Capitale. Brutta avventura per una squadra di vigili del fuoco che nel corso di un intervento presso il Campo Rom di Via Salone è stato fatto oggetto di un lancio di sassi da parte di gnoti. I vigili erano intervenuti sul posto per spegnere un incendio di un cassonetto dei rifiuti. Non si registrano feriti. Con la cronaca ha aspettato che il dipendente fosse solo all'interno del negozio, quindi ha fatto irruzione in una parafarmacia di Via Velieri a osti armato di colterno. Un rapinatore sui 30 anni romano, non contento di 400 euro inoltre, ha ferito il titolare della farmacia con una coltellata. Fortunatamente il 59enne ricoverato in oncologia all'ospedale Grassi non è in pericolo di vita. Chiudiamo con la cultura attorno all'editorio Un Parco della Musica per il settimo anno consecutivo dal 18 al 20 marzo. Libri come Grande Festa del Libro e della Letteratura. Per tre giorni il Parco della Musica diventerà così una grande biblioteca animata dove i lettori potranno confrontarsi dal vivo con i grandi protagonisti della letteratura e della cultura mondiale. Era questa l'ultima notizia per oggi. A tutti voi una buona serata.